Grazie al laboratorio di Anzia e gli alunni in passato hanno ottenuto le mura che hanno dei murales. Andiamoli a vedere. Tra l'altro laboratorio che stiamo nella Anzia abbiamo anche l'operatorio di Anzia. Andiamo a vedere. Nell'operatorio troviamo dei ragazzi che stanno adesso a fare dei lavori per Natale. Mentre lei sta realizzando l'alfabetiere. Tutto questo è partito da una soffantina. Questa è la realizzazione dei lavori che stavano creando i suoi laboratori ragazzi. I patti regalo, l'albero, il tesene e il cammetto. Nell'albero, c'è il muro di Mendes, c'è un laboratorio di arte e a fianco ci sono due cipri. Avvicinateli. Ragazzi che aspettate? Bene, vi troverete e alla nonna vi iscriverete. Viverete!